Ciao a tutti, sono Alberto Dodrato, l'allenatore di riferimento della Palla Nuoto qua alla Sciorba. Mi occupo in prima persona della scuola Palla Nuoto, quindi della categoria acquagol che vuol dire i bambini nati nel 2009, 2008, 2007, 2006 a San Diego, quindi categoria under 12 e under 10. Noi ci alleniamo qua presso questo meraviglioso impianto tre volte a settimana, i giorni dispari lunedì, mercoledì e venerdì. Indicativamente la fascia è sempre quella pomeridiana dopo la scuola, quindi dalle 5 alle 7. Fino a fine luglio saremo qua tutti i giorni, sempre lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 5 e mezza alle 7. Se qualcuno ha voglia di provare, venire a conoscerci e sperimentare questo sport meraviglioso, vi aspetto per giocare insieme. Grazie a tutti! Grazie a tutti!